Sììììììììììììì con che? con che? con che? il marco eh! il gatto no, shhh, shhh non c'è tutto c'è? il topo non c'è? no il topo non c'è? no c'è? il peccato grillo va va asica la qu'hormiga a chi busca il cuore? paloma 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 il pesa del cuare chi è? qu'è? la ballena il barche il pesa il colore se faca b それ è qua questo progetto è nello vien a qui il settembre del 2011 nostro progetto pilota è in Ramiriqui, Boyacacá, Colombia eh... este progetto va por las veredas di Ramiriqui Llevando lo che vedo, che i bambini si vengono di libri, si vengono di la pittura, di le arti Llevando tallere di riciclazione, tallere di pittura, di teatro, di titeri Perché credo che da lì un po' si può usare come le diceva prima di la guerra La biblioteca in questo momento produce un periodico Un periodico si chiama la carretta biblioteca Los niños plasman los escritos de los resultados, de los talleres, que plasmen las coplas Ah bueno, come questa biblioteca è di Boyacà, quindi anche queremos dar a resaltare o a reivindicar Ese pensamento campesino, ese pensamento popular, mediante las coplas Ese pensamento campesino in un paracaidà E che herramienta hai utilizzato? Eeeh una lata e unos pittillos, pietra e di papel Un po' si può usare un carrito? Eeeh caja di ruggos, pittillos Un pescado Un pescado? Un pescado? Un pescado è un pescado Non più il pesato Te puoi ci useri Determinare il passaggio Un pescado Un pescado Un pescado Un pescado Qui stiamo facendo paracaidi, quindi sta per lì, vediamo qui, vediamo qui. La idea è che usano il cuore e lo pinto un'altra, e poi poi vengono a farmi l'arma, che è mettere la parte di ariva per lanciarlo, perché mi piace, perché posso dare salto. Siamo facendo un taglio con Yurani, con Allison, Sandra, con Daniela e con Sara, un giuguito per che possano giocare e prendere i materiali riciclati, usando cartone, plastica, riciclato, usando anche cordone riciclato, tutto quello che sia riciclato, precisamente per che si diviertano in loro casa. Chi ha salito di i due uomini? No, no. Pagani? Un cincinno. Un cincinno. E vediamo, vediamo, vediamo! Voi, sono i pati! La grazia è che vediamo che si possono divertire usando lo che la gente dirà che è basura, quindi che si possono divertire creando, creando juegos, per allà di altre cose. E questo è ben ingegnoso, quindi abbiamo fatto con loro, per che anche se diviertano in questi casi. Abbiamo stato, diciamo che il tema di Hojas Sancocho è il che ha propiciato il che stiamo qui in junta, certo? In junta con... Hacendo i diversi talleri qui in Ciudad Bolivar. Credo che uno di cui ha propiciato, diciamo, questa biblioteca, questa carreta, è il maestro Jorge Velosa e lui è uno dei nostri forti, sappiamo che non lo faremo soli, abbiamo che uniremo entre molti, con Sueños Films, con moltissimi, certo? Ui, questo processo, cominciamo 3, 4 persone e questo già lleva mas o meno 15, 20 persone che stanno aiutando esporadicamente, però, però, cada vez si va sumando più gente. Ayer, per esempio, asistieron mas o meno unos 60 niños, oggi, poi, lo che stanno nel taller di sotto, lo che stanno aca, mas o meno unos 30, io le estimo, perché questa mattina abbiamo fatto un altro taller, dove estuvieron mas o meno 40 niños. Beh, noi possono contactare al telefono 301-515-3773, anche siamo disposti a andare a diverse parti di Bogotà e del paese. Grazie a tutti!